L'essere umano geneticamente perfetto, colui che può vincere su tutto e anche uno dei protagonisti di uno degli ultimi film della Marvel, tra l'altro uno dei più amati recentemente, ovvero Guardiani della Galassia 3. Oggi ragazzi parliamo di Adam Warlock e delle sue vere origini, la sua vera storia dei fumetti, attingendo proprio dalla fonte. Ciao a tutti ragazzi, io sono Marra, questo è RayDoc, come sapete spesso e volentieri su questo canale andiamo a parlare della lore di personaggi che magari abbiamo visto al cinema, magari in certi film. Come sapete spesso e volentieri su questo canale andiamo a parlare di certi personaggi che magari abbiamo conosciuto anche sul grande schermo, anche nei film magari non sono stati riadattati, proprio fedelmente possiamo dire. Questo non vuol dire che non siano stati riadattati bene, ma devo dire non fedelmente come in questo caso e andiamo a parlare della loro storia, così potete anche capire da dove effettivamente proviene questo personaggio nella realtà, da dove nasce, proprio dalla fonte, dal fumetto vero e proprio. Oggi parliamo di Adam Warlock, prima di iniziare, come al solito ragazzi, vi voglio ricordare che se volete vedere tutti i nostri contenuti in anteprima sin dal lunedì e soprattutto senza pubblicità dovete abbonarvi a questo canale. Cliccando su abbonati entrerete su Redoc Gold e avrete tutta questa serie di vantaggi, quindi potete vedere i contenuti prima sin dal lunedì, li potete vedere senza pubblicità, in più ci sosterrete, cosa che comunque secondo me è buona e giusta. Comunque io direi di iniziare a parlare di questo personaggio e partiamo ovviamente dalle sue origini. Ovviamente non andremo a parlare di tutta la storia di questo personaggio perché editorialmente è comunque abbastanza vecchio. In più è un personaggio anche abbastanza figo e quindi quando ci sono personaggi abbastanza fighi, anche famosi e potenti, solitamente la Marvel li ricicla per 3000 storie. Lui compare effettivamente in 3000 storie. Comunque Warlock viene creato per la prima volta da un gruppo di ricercatori che si chiamavano Enclave o Enclave. Il loro obiettivo era quello di ricercare e creare l'essere umano perfetto, la creatura umana perfetto, il picco, diciamo così, dell'evoluzione umana, il futuro dell'evoluzione umana. Fortunatamente per noi terrestri però la creatura che venne fuori delle loro ricerche è una creatura che era al di là del controllo dei loro creatori perché effettivamente ci sono riusciti a creare il picco dell'evoluzione umana. Questa creatura che hanno creato inizialmente non aveva un nome ma veniva chiamata solo Him, ovvero lui in italiano. Lui emerse immediatamente sensiente, quindi esattamente come nel film, solo che nel film si sottolinea un pochettino di più il fatto che si vuole essere infantile perché è appena nato, qui invece è subito molto intelligente. Anche se devo dire un po' primordiale sotto alcuni versi, sotto alcuni sensi, soprattutto per una cosa di cui parleremo tra pochissimo. Appena nato riuscirà già a percepire che i suoi creatori l'avevano creato solo ed esclusivamente per degli scopi malvagi, cosa che lui ovviamente non va molto a genio e quindi la prima cosa che fa appena nato è scappare, ferendo anche praticamente tutti i suoi padri e scappa. Sfortunatamente per lui, nonostante sia un essere supremo e sia riuscito già a scappare, non ha moltissima esperienza con la vita vera. Infatti a un certo punto della sua fuga incontrerà Thor e in particolare proverà anche a rapire Lady Sif. Qua infatti tornava a parlare dei suoi istinti primordiali, difatti proverà a rapire Lady Sif per accoppiarsi con lei. E' letteralmente un animaletto in questo momento Adam Warlock. Comunque ovviamente questa cosa non va moltissimo a genio Thor che naturalmente prende questo rapimento come una specie di dichiarazione di guerra, quindi si presenterà davanti a questo essere quasi divino e lo combatterà, quasi uccidendolo tra l'altro. Comunque Adam Warlock è un personaggio molto forte ma inizialmente davanti a Thor comunque non può fare nulla. Qui Adam viene per la prima volta quasi ucciso o anzi ucciso perché letteralmente si rinchiude da solo all'interno di un suo bozzolo rigenerativo che è una caratteristica di questo personaggio, non sarà l'unica volta che farà una roba del genere ve lo anticipo e subito dopo rinascerà letteralmente. Questa cosa viene considerata una vera e propria rinascita. Quando lui rinasce viene rinominato Warlock proprio da un personaggio che compare anche in Guardiani della Galassia 3, ovvero l'Alto Evoluzionario. Personaggio che non solo gli dà un nome ma diventa quasi una guida, quasi una figura paterna per Adam Warlock, soprattutto agli inizi della sua vita. L'Alto Evoluzionario dona uno scopo ad Adam Warlock, gli dona praticamente la vita vera, gli dona dei valori e soprattutto gli dona un oggetto molto importante per questo personaggio che tornerà spessissimo nella sua storia, ovvero la gemma dell'anima, una delle gemme dell'infinito. Poco dopo tra l'altro Adam Warlock andrà a vivere anche lui sulla Controterra, anche qui a un altro pianeta dell'Alto Evoluzionario, pianeta che si vede anche in Guardiani della Galassia. Come sapete, se avete visto il film, ma anche se avete visto il nostro video dedicato interamente sulla vera storia dell'Alto Evoluzionario, la Controterra era questa civiltà che ha costruito appunto questo villain alla fine che è l'Alto Evoluzionario, costruita apposta per diventare una specie di utopia pacifica. Scopriamo in realtà che durante la rinascita di Adam Warlock, Man Beast, praticamente un rinnegato di una delle creazioni dell'Alto Evoluzionario, ha preso il controllo di parte di questa terra e ha corrotto molti cittadini. Man Beast infatti è il primo vero e proprio nemico, il primo vero e proprio villain di Adam Warlock. I due si scontreranno e ovviamente, non senza difficoltà, perché comunque Adam verrà rapito, gli verranno fatto delle cose, riuscirà comunque a sconfiggere questo uomo bestia ovviamente. La storia di Adam Warlock comunque diventerà molto, molto collegata alla Controterra e quindi di conseguenza anche quella dell'Alto Evoluzionario, di fatti diventa il primo vero e proprio campione di questo mondo. Viene adorato da tutta la Controterra e girerà per molto tempo questo pianeta insieme a un gruppo di altri giovani di questa terra qua, di questo pianeta, per liberarsi, diciamo così, dei rimasugli dell'ideologia dell'uomo bestia. Comunque queste sono le origini di Adam Warlock, ma la sua storia è ancora molto, molto lunga. E come potete immaginare, la sua storia è strettamente collegata a un artefatto di cui abbiamo parlato poco fa, ovvero la Gemma dell'Infinito. Di fatti Adam ha un rapporto molto particolare con questa Gemma, è quasi un rapporto simbiontico oserei dire. Un rapporto, io definirei anche bilaterale, nel senso che Adam Warlock sa sempre dove la Gemma dell'Anima si trova e la Gemma dell'Anima sa sempre dove Adam si trova, è proprio una roba molto particolare. Tra l'altro, chi legge i fumetti lo sa, la Gemma dell'Anima è molto particolare perché si lega a diverse persone. Nel corso di tutta la storia della Marvel, la Gemma dell'Anima in particolare si è legata a tante persone diverse. Però la stessa Gemma in realtà ha confermato che Adam è sempre stato l'host più potente che abbia mai avuto a che fare con la Gemma dell'Anima. Questo è un legame molto, molto, molto intenso. Talmente intenso che in certe occasioni la Gemma dell'Anima ovviamente viene utilizzata diverse volte sempre contro Adam ma Adam è immune ai poteri della Gemma utilizzata da altre persone, ok? Quindi in poche parole la Gemma dell'Anima è strettamente collegata a questo personaggio. Per questo motivo, anche quando uscirono i vari film legati ad Avengers Infinity Wars molte persone pensavano sarebbe apparso prima o poi Adam Warlock, cosa che non è successa e ha deluso moltissima gente. Difatti in Infinity Wars Adam Warlock è uno dei personaggi principali, ma letteralmente. È anche uno dei pochi personaggi che effettivamente è riuscito anche a tenere in mano, anzi a mettersi, il guanto dell'Infinito. Ovviamente è proprio per questa sua storia con le Gemme dell'Infinito, come potete immaginare, uno dei villain principali di questo eroe, potremmo chiamarlo così, in realtà non saprei neanche come definirlo, è proprio Thanos. Comunque il nostro caro Adam ha tantissime armi a sua disposizione per affrontare nemici come Thanos. Difatti vorrei parlarvi un pochettino delle sue abilità, che sono tipo veramente tantissime. Intanto ha tutte le classiche abilità da superumano, quindi la superforza, supervelocità, può volare a quanto pare anche immortale e può rigenerare le proprie cellule. Questa cosa della rigenerazione, come avete capito, è un must di tutti gli eroi, o comunque personaggi dei fumetti, che hanno una certa importanza e una certa forza. Ha anche dei sensi incredibilmente sviluppati, anche collegati, diciamo così, col cosmo. Difatti Adam ha l'abilità di riuscire a percepire la produzione di wormholes nello spazio. Può anche sentire se qualcuno si sta teletrasportando. E può sentire anche irregolarità o comunque qualsiasi movimento, anche a livello non fisico, ma semplicemente spirituale. Tutto questo, tra l'altro, lo possiamo anche descrivere come praticamente un collegamento ai sensi mistici talmente forte che, per esempio, certe volte è successo che la gemma del tempo è stata utilizzata contro di lui per frizzare letteralmente tutto il tempo dell'universo, cosa che non ha funzionato su Adam, che è immune anche su poteri del genere. Può utilizzare l'energia per combattere, può manipolare letteralmente la materia, può resuscitare, a quanto pare, può anche viaggiare nel tempo in forma astrale, veramente dei poteri assurdi. E in più, nonostante sia il classico personaggio legato all'universo, ha anche uno fortissimo collegamento con la magia, perché può lanciare tantissimi incantesimi di quella conoscenza, veramente tantissimi, che in realtà non gli servono neanche più di tanto, perché tutte le abilità che ha innate, veramente, rendono tutti gli incantesimi anche di un personaggio come Doctor Strange quasi inutili. Questa, ragazzi, è la storia, le origini e i poteri di Adam Warlock, ovviamente personaggio incredibilmente diverso da quello che abbiamo visto nel film. Come però ho detto anche all'inizio, diverso non vuol dire peggiore o migliore, per forza, eh. Secondo me l'Adam Warlock del film è perfetto per il ruolo che deve avere, perfetto per quello che mancava in quel film lì, ok? Quindi io sono anche fan di quella versione là, sinceramente. Detto questo, io vorrei concludere questo video ricordandovi, come al solito, che questo canale va avanti anche grazie al nostro store. Vi ricordo il link in descrizione e nel primo commento. E anche se volete fare il vostro acquisto, se vi va, darci una mano, trovate il codice sconto YouTube che potete utilizzare una volta al mese, quindi lo potete utilizzare già un'altra volta se già avete fatto il vostro acquisto una volta. Comunque, date un'occhiata se vi va. Noi comunque ci vediamo prossimamente con altri contenuti a tema Marvel. Mi raccomando, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti. e noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti ragazzi!